Finirà con l'ammazzarsi. Fatevi avanti, curatevi della vostra salute. Ma come può un uomo fare queste cose? Sarà una questione d'olore, certo. Vi piace, Dante? Un inferno assai affollato, quello che descrive. Oppositori politici, gente che gli aveva fatto torto. La sua penna taglia quanto una lama. Sì, un modo sottile di ottenere vendetta. Ezio, intendo recarmi ad Adrianopoli fra qualche settimana per visitare una nuova stamperia. Sarà divertente. Sta cinque o sei giorni di cavallo da qui e... mi servirà una scorta. Prego? Ah, scusate, siete un uomo impegnato. Sofia, mi piacerebbe molto accompagnarvi, ma non ho molto tempo a disposizione. Questo vale per tutti noi. Bene, posso tentare di risolvere l'ultimo codice, ma entrosera ho una commissione da fare. Aspettereste un giorno? Che cosa vi serve? È stupido, ma... un mazzo di fiori freschi. Tulipani bianchi, per la precisione. Vi porterò i fiori. Nessun problema. Siete certo? Sarà una piacevole distrazione. Bene. Troviamoci nei giardini a est di Santa Sofia e faremo lo scambio. Fiori per informazioni. Fiori per informazioni. Fiori per informazioni. Non sarà particoloso Sono anche specializzato in biancheria raffinatissima Qui in metallo finemente lavorato Sembrate un uomo con denaro da spendere Che cosa vi serve, amico? Tulipani, bianchi, se ne avete Ah, tulipani! Perdonatemi, ma li ho finiti Qualcos'altro, magari? Non ho bisogno d'altro, purtroppo Va bene, sentite Forse so dove trovare dei tulipani freschi Aspettate qui il mio ritorno Un'ora, due al massimo Non intendo aspettare un'ora Posso sconfiggere i fastidiosi maldorecchi Con il solnitro e la polvere di zolfo Aplaudete La torta La torta Ah no, grazie. Ha dei prezzi elevatissimi e la sua merce non è poi così buona. Come sta tuo fratello? Lascereste morire di fame i miei bambini! Siete un uomo o una bestia! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.